Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Topic. A Topic oggi parliamo di sanità, del famoso balletto per accapararsi posti di prestigio nel mondo sanitario. Lo sapete, negli ultimi giorni si è parlato molto di questo direttore, dell'altro direttore che ha sostituito questo, che ha sostituito quello in qualsiasi azienda ospedaliera dell'isola o ASP dell'isola. Ebbene, è iniziato questo balletto che chiaramente si lascia essere fatti non tanto per il fatto che si punti a migliorare la sanità pubblica, è il fatto di contendersi le persone, non guardare all'utilità di quello che si è appreso in passato. Per esempio, ci sono soggetti che sono stati defenestrati, che magari meritano di restare alla guida dei rispettivi ruoli, anche perché i risultati sono stati anche abbastanza positivi. Invece abbiamo notato che sull'altare delle decisioni della politica, di coloro che devono gestire tutto, si sono praticamente insediati personaggi che sono riconducibili alla politica. E anche se sono riconducibili alla politica c'è stato un malessere generale, perché tanti sono stati non accontentati. E allora dico, ma quando si parla di sanità, una delle richieste che fanno i cittadini, che la collettività si fa, è che la persona che deve dirigere, così come i medici, gli infermieri, insomma quelli che sono negli ospedali, dovrebbe avere tutte le competenze, le caratteristiche essenziali fondamentali per far crescere questo comparto che ha avuto parecchie lacune negli ultimi tempi. E allora da osservatori diciamo, ma com'è possibile che si giochi sempre con le coscienze della gente? Perché vedete, io capisco che cambiano i governi e che quindi i personaggi di riferimento debbano essere in qualche modo legati a chi governa. La cosa che mi fa specie è che è abbastanza ridicola la questione, è che poi ci sono i verginelli, ci sono quelli che non sanno nulla, sono quelli che accusano solamente e dicono che c'è qualcosa che non funziona, c'è la spartizione delle poltrone, hanno messo questo più che questo, è come se non fosse ormai una cosa normale, qualsiasi governo ha cambiato al timone della regione e ha sempre poi deciso di fatto chi fossero le figure di riferimento. Allora alla base bisognerebbe dire evitiamo che ci sia la politica a dettare il passo, questo passo, che ci fossero selezioni mirate, che ci fossero le competenze, il curriculum visionato da commissioni alla sanità per dire questo merita di poter fare questo, questo non lo merita, piuttosto che fosse il parlamentare di turno che ora magari picchia i pugni sul tavolo perché non è stato accontentato, queste sono le incongruenze e le cose assurde di questa società. Noi vogliamo che i direttori sanitari, i direttori delle aziende ospedaliere, insomma coloro che sono figure apicali in questo contesto, devono avere tutte le caratteristiche per poter far sì che si possa continuare a crescere e migliorare, ma questo lo dice il curriculum, l'esperienza, non lo dice il politico di turno, per amicizia o per accattivarsi le simpatie, cosa che è accaduto nei secoli in Sicilia, noi stiamo parlando di sanità ma questo accade un po' in tutti i settori, la meritocrazia è diventata una illustre sconosciuta in Sicilia, chiunque si può attrezzare, dotare di pensieri e parole che possono essere avallati, accompagnati da esseri che magari non hanno la capacità di poter capire se realmente sono intellettuati. Ci sono tanti millantatori e questa è la cultura purtroppo che è molto meridionale, devo dire. Ecco, alla luce di questo a me fa specie pensare che ora ci siano rimostranze, appelli, gente che manifesta, c'è questo malessere nascosto, insomma tutto questo strumentalizzato da chi chiaramente ci deve navigare, da chi chiaramente deve destabilizzare, da chi chiaramente deve trovare il modo di far cadere, insomma questo accade, ma è una cosa vista e rivista a seconda di chi ci governa. Mi verrebbe da utilizzare una frase per coloro che si ergono a paladini del diritto, che poi è un detto siciliano, quello che dice un lupo di mala coscienza, chi gioca pensa, opera. E questo è un proverbio che si può coniugare con chi manifesta il suo dissenso sapendo che è tutto scritto, la storia racconta, ci sono episodi del passato, però continua ad andare avanti con questo pensiero, perché è un pensiero che, come detto nel proverbio, deve fare molto riflettere. Allora, per ricapitolare e per chiudere su questo argomento stucchevole, la sanità è fondamentale in Sicilia, non bisogna badare a spese, perché la vita di ogni cittadino è preziosa, va tutelata, garantita e quindi i direttori generali non devono speculare sulla vita della gente, monetizzare sulla vita della gente, devono essere persone molto preparate, che abbiano la capacità di poter trovare soluzioni, per esempio nel sovraffollamento, nelle visite specialistiche che ci vogliono mesi se non anni per averle, insomma le garanzie di tutti per tutti coloro che non si possono permettere cliniche private, che non si possono permettere soldi a pioggia per curarsi, perché attenzione, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, c'è parecchia gente che ha smesso di curarsi perché non ha i fondi per poterlo fare, questo è vergognoso, assurdo, inaccettabile. E allora, ai grandi dirigenti che dovranno rivoluzionare la sanità, pensiamo che possano dare queste risposte che la gente vuole, pochi fronzoli, poche promesse, poche barzellette, perché non ride più nessuno, ma soprattutto fatti concreti che possano andare nella direzione di aiutare coloro che ne hanno bisogno. Poi magari qualche direzione in meno, ma soprattutto la capacità di capire se un soggetto merita di restare in quel posto perché ha le caratteristiche essenziali per far sì che tutto questo possa essere migliorato. Purtroppo la politica crea e la politica distrugge, potremmo dire. E allora aspettiamoci delle risposte serie, delle prese di posizione serie, soprattutto che la sanità dia le risposte che tutti vogliono per tutelare la propria vita. Siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi esorto a continuare a scriverci a redazione chiocciolaspazionotizia.it. Fatelo, dateci le vostre considerazioni, se avete delle domande da fare, manifestate i vostri dubbi. Noi chiaramente cercheremo di condividere con voi le possibili soluzioni perché quello che noi facciamo lo facciamo con spirito di servizio pubblico per far sì che questi messaggi possano raggiungere coloro che gestiscono, come si suol dire, le nostre vite. Avete visto anche il numero telefonico a vostra disposizione, il 3792 24 24 20. Grazie per avermi prestato attenzione. Appuntamento a lunedì. Arrivederci.